E' veramente un colpo di scena le parole di Giancarlo Magalli, fatte proprio in un'intervista particolare al settimanale Oggi. Il conduttore Rai infatti si dichiara molto dispiaciuto per tutto ciò che è successo alla sua ex collega Adriana Volpe nella casa del grande fratello ma anche fuori le mura della casa, cioè la perdita del suo caro adorato suocero. In più ammette che tutto ciò che è successo in Italia lo ha fatto molto riflettere e per questo motivo vuole sotterrare l'ascia di guerra che ha nei confronti di Adriana Volpe e avere un chiarimento con lei. Per la prima volta Giancarlo tende la mano ad Adriana e per la prima volta si fa sentire, visto che Adriana Volpe lo ha nominato molto spesso nella casa del grande fratello ma lui non ha voluto mai replicare alla conduttrice che ricordiamo insieme hanno fatto tantissimi anni in una trasmissione Rai ma purtroppo qualche battibecco li ha divisi e ora lui ancora continua in questa trasmissione, lei invece si è ritrovata senza lavoro. Giancarlo si dichiara molto dispiaciuto per tutto ciò che è successo in queste ultime settimane ad Adriana Volpe e ammette anche di essere dispiaciuto soprattutto per il doloroso lutto che la conduttrice ha dovuto affrontare in questo periodo. E voi che cosa ne pensate del dietro fronte di Giancarlo? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un pollice in su di supporto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Grazie.